Centro Vaccinazioni in via Micca a Canicattì, con noi la dottoressa Ignazia Monachello. Oggi una giornata particolare, il vaccino con il sorriso, in che modo? Buongiorno, sono Zina Monachello, sono il referente dell'Ampulatorio Vaccinale di Canicattì. Oggi, grazie alla collaborazione e soprattutto al volontariato di un'associazione, ci teniamo per mano Onulus, questi ragazzi verranno ad allietare la mattinata i nostri bambini che vengono qui per vaccinarsi, regalando loro un sorriso e affievolendo anche l'ansia del vaccino. Roberto Gravotta, come si svolgerà questa vaccinazione e cosa farà questa associazione? Allora, l'associazione si occuperà, come ha detto prima la dottoressa, di collaborare con noi nella post-vaccinazione e pre-vaccinazione, quindi faremo la vaccinazione con il sorriso, la Vaccination Day Smile chiamata. Questi ragazzi saranno felici di venire qui, quindi poi ci sarà un passaparola, la cercheremo noi tutti, il nostro team, di fare le vaccinazioni come sempre al meglio siamo abituati a fare, con il sorriso, così si toglie questa idea della vaccinazione che fa male, che non è vero, che non è vero. A parte che qui accogliete sempre con il sorriso tutti i bambini. Questo stavo dicendo, che noi già premesso, che noi i bambini li rendiamo sempre felici, certo, c'è il pianto ma subito dopo c'è il sorriso con i nostri giochini, con le nostre distrazioni, barzellettine, giusto per farli sorridere. Quindi non solo l'ambulatorio è diventato bellissimo, tutto colorato, abbiamo i supereroi alle nostre spalle, abbiamo anche la stanza del gioco, oggi potranno proprio materialmente giocare? Giocare sicuramente con i clown, sarà un momento anche di gioia per questi bambini, perché è un evento particolare, che non siamo abituati nel nostro ambulatorio ad avere questa gente che alliete i nostri bambini e che soprattutto lenisce il pianto e l'ansia del vaccino, perché ogni bambino che viene qua viene sempre ansioso, comunque anche ai genitori, perché sappiamo che il sorriso comunque aiuta sicuramente alla socializzazione e quindi a stare bene, diciamo, nell'ambiente in cui ci si trova. E quindi un augurio di Buon Natale a tutti i bambini che stanno venendo a vaccinarsi. Augurio, un augurio grandissimo a tutti i bambini, ai genitori di Buon Natale e felice anno nuovo se non ci vediamo. Auguri ai nostri bambini. Auguri a tutti, auguri con un sorriso. Volevamo anche rendere questa giornata gioiosa e avere anche la compartecipazione dei nostri due amministrativi che fanno parte del nostro gruppo. Venite. Prego. Linda. Aspetta. Linda Lalomia, la nostra collaboratrice amministrativa. E Gio Tiranno. Gioacchino Tiranno, piacere. Gioacchino Tiranno, che fanno tanto dietro le quinte e anche loro sono in prima fila con noi. E allora auguri anche da parte vostra. Grazie, grazie, auguri a tutti. Buon Natale a tutti. Buon Natale.